Domenica 6 dicembre in Puglia sono stati registrati 7.293 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.789 nuovi casi positivi. 783 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia Bat, 214 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 259 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 24 decessi di cui 5 in provincia di Foggia. A Lucera sono stati superati nuovamente i 400 contagi.